Ma parlando di 300 miliardi in quel rapporto mi chiedo, i soldi dall'Europa dobbiamo cercare di andare a prendere fino all'ultimo centesimo, sì o no? Questo mi chiedo in maniera costruttiva, cioè è importante? Dobbiamo recuperare risorse da tutte le fonti disponibili. Anche per la sanità? Perché questo è un tema cruciale. Anche per la sanità, in realtà quello che è stato bizzarro nei primi mesi di quest'anno è che abbiamo speso meno di sanità che l'anno precedente. Anche nella digitalizzazione della sanità noi andremo probabilmente a spendere meno. Gli investimenti saranno necessari ma creeranno un risparmio nella gestione della sanità. Per cui dobbiamo pensare in modo chiaro come vogliamo spendere quei soldi perché probabilmente se li spendiamo bene genereranno dei ricavi aggiuntivi o dei costi inferiore. Allora Lanza ha messo dei pallini giustamente.